Dopo Spalle e Frosinone, Lavellino aspetta il Carpi per cercare di confermare la miniserie positiva in campionato. Vincere ancora tra le mura amiche significherebbe mettere una serie ipoteca sulla salvezza, ma certamente battere la squadra di Castori non sarà impresa semplice. Il Carpi infatti viene dal pareggio rimediato in casa contro la Provercelli, che certamente brucia e dunque si arriverà in Irpinia per cercare un riscatto in un momento cruciale della stagione. Gli avversari dei Lupi al momento sono non in classifica, con 48 punti, 7 in meno dell'Avellino, frutto di 12 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte. Paradossalmente il Carpi vince di più fuori casa che tra le mura amiche. 5 successi casalinghi contro i 7 conquistati fuori dal Cabassi, 7 le sconfitte esterne contro le 3 interne, 9 i pareggi conquistati davanti al pubblico amico, 3 fuori. Negativo il saldo delle reti, 31 quelle fatte e 33 quelle subite. Partita complessa dunque, tanto per la sua importanza quanto per il timore di poterla in qualche modo sottovalutare. Nulla di più sbagliato. Il Carpi arriverà ad Avellino senza fedato, squalificato, ma forte di tanta grinta e voglia di ripartire. Sarà una partita difficile, ha detto Castori al termine della sfida contro la Pro, anche perché gli Irpini hanno riposato un giorno in più. Questo non deve essere un alibi, aggiunge. Gli uomini di Avellino stanno disputando un campionato discreto e nel finale riescono sempre ad emergere giocando delle ottime riprese. Speriamo davvero che sia così e che Biancoverdi non si cullino sugli allori dei quattro punti conquistati brillantemente in due partite.